Allora Geronimo, tante iniziative per questa settimana della gentilezza, tu però ci stai lavorando da un po' di tempo. Eh sì, da maggio abbiamo unito tante scuole, tanti ragazzi pronti a dimostrare a tutti che la gentilezza è dentro ognuno di noi. Basta tirarla fuori! Ecco, come facciamo a tirarla fuori? Dobbiamo lavorare giorno per giorno, anche nei momenti più bui o quando siamo un pochino tristi. Quindi possiamo sempre riuscire a tirare fuori un po' di gentilezza, non solo per noi, ma anche perché ci sta vicino, per un amico che magari ha bisogno di una zampa in più. Insomma, dobbiamo lavorare tutti insieme per far sì che si possa stare uniti in maniera armoniosa, anzi topolosamente bene. Tu ci insegnerai qualche piccolo trucchetto? Sì, in particolare il 10 di novembre farò uno spettacolo aperto a tutti, dove famiglie e ragazzi saranno insieme a noi per raccontare una storia stradopica alla ricerca della gentilezza. Che come dicevo prima, è dentro il vostro cuore, dentro il cuore di ognuno di noi. Ecco, Geronimo, sei arrivato a Milano, hai potuto vedere c'è un po' di gentilezza anche a Milano. Per mille mozzarella, certo che c'è c'è ovunque nel mondo, basta aprire gli occhi e il cuore per trovarla.